Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! XIODERONE! Le sfide otterranno finalmente il backpack del succo bananita. Questo vuole anche dire però che il team di Epic Games torna completamente al 100% attivo e concentrato per regalarci questo finale di season con tanto di evento che tutti stiamo aspettando. Nel video di oggi ragazzi però parleremo innanzitutto delle armi fuori magazzino, quelle che ancora mancano in questi ultimi tre giorni. Le vedremo molto velocemente ma grandissime novità. Da qualche ora è apparsa una mail di risposta a un grande youtuber mondiale americano da parte di Epic Games che sembrerebbe confermare il rientro delle risoluzioni personalizzate. Parlo di PC perché la mail era rivolta al PC. Vi farò leggere quello che ho letto anche io e ovviamente un bel po' di leaks. Parleremo un attimo ancora dell'evento. Parleremo anche se abbiamo tempo della skin singolarità. Prima però voglio ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator Xyuderone. Grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop. Mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e soprattutto se la trovo. Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video e delle mie live. Ma prima la domandina raga ve la devo fare mi rispondete sempre in tantissimi. Sono super contento ragazzi che vi piacciono le mie domande e quella di oggi è molto molto personale. Ma qual è la tua copertura quella per le skin per le armi e per i veicoli preferita? Non necessariamente tra queste. Di tutte quelle che ti vengono in mente qual è la più bella secondo te? Secondo me la mia ragazzi ci ho pensato. Ci ho pensato un po' ma è quella dell'uomo nero. A me la copertura di John Wick piace davvero tantissimo. Meravigliosa l'arma tutta nera, classica, perfetta, pulita, niente fronzoli. La mia preferita è sicuramente questa. Ma quindi... Ciancio alle bande! I bando alle ciance! Andiamo subito subito ragazzi a vedere il primo argomento di oggi che è nient'altro che un briefing su quello che è accaduto. Quindi la collaborazione di Fortnite con Stranger Things. Questa intanto che alle mie spalle è l'immagine ufficiale pubblicata ieri mattina da Epic Games che va appunto a ritrarre il capo Hooper con dietro il Demogorgon che ovviamente è pronto per attaccarlo. Giustamente tutti mi avete chiesto Max Huder ma è anche pronta una modalità con Fortnite Stranger Things? Ragazzi no! Purtroppo non c'è nulla in game che ci lasci pensare che possa arrivare una modalità speciale, una LTM o qualsiasi altra cosa che non siano queste due skin e la copertura delle armi. Quindi credo che sia proprio una mini collaborazione che ha visto portare alla luce sul nostro Fortnite anche due skin presenti in una serie tv. E purtroppo ragazzi non è che sono brutte, sono carine come skin, molto particolari, diciamo devono proprio piacervi. Lui vabbè ci sta, il Demogorgon è un po' particolare ma purtroppo non ci saranno collaborazioni ufficiali. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo anche di un nuovo argomento, quello delle armi fuori magazzino. Ieri abbiamo visto il ritorno della doppietta ragazzi, tanta roba nelle versioni epiche e leggendarie. Oggi arriva la mitraglietta tattica ragazzi, quella tattica submachine, rata tata tata tata, presente? Potentissima, tanta tanta roba, sarà poi la volta del Bolt Action normale e non vedo l'ora, parliamo di domenica. E lunedì ultimo giorno ragazzi, il nostro Scar silenziato. Quindi le ultime tre armi che verranno rese disponibili solamente per 24 ore per poi rivederle chissà quando. E proseguiamo anche con un nuovo argomento, come vi avevo anticipato sarei ritornato un attimo sul discorso dell'evento del robot. Come notate ragazzi, ieri vi avevo parlato del robottino che sta costruendo proprio fisicamente il robot gigante e molto simile ai robot che portano il loot extra nelle zone calde. In realtà, questa immagine che vi sto facendo vedere ragazzi, è proprio quella dedicata al robot presente all'impianto a pressione che si chiama Weirdbot. Quindi ha un nome tutto suo e come vedete infatti la caratteristica è che sotto ai propulsori c'è appunto uno strano aggeggio che serve per costruire. Perché ve la faccio vedere? Perché questo Weirdbot ragazzi potrebbe essere parte integrante dell'evento in quanto è presente anche nei codici sorgenti nella sottocartella dell'evento Dogus la cartella Weirdbot. E come andiamo a leggere invece là in basso? Abbiamo due stringhe di codice che ci dicono Spotlight Static for Real, quindi probabilmente Static for Real dovrebbe essere inteso come da un disegno alla realtà, cioè dal progetto alla realtà. E la seconda riga questa invece dice Searchlight Flare Cam Facing. Io non saprei tradurla questa ragazzi. Luce Face Cam Facing. Non lo so. La cosa particolare è che ci fa saltare il campanello d'allarme le stringhe di codici dedicate a un oggetto che non ha utilità ai fini del gioco. Forse ne avrà. Chi lo sa ragazzi? Ovviamente tutti gli aggiornamenti sull'evento del robot voi li saprete così tanto quanto li so io. E proseguiamo ancora con il nuovo argomento ragazzi. Una curiosità molto molto carina. Come vedete questa è uno screen del mio Pass Battaglia. Normalmente ciò che ci interessa è la data di termine della season numero 9 e come vedete 18 giorni al termine. Perché vi dico 18 giorni al termine? Perché c'è una curiosità. Le notizie ufficiali dicono che la season numero 10 inizia il primo agosto. Ma in game ci viene detto che la season numero 9 termina tra 18 giorni e sapete quale è il giorno in cui termina? È il 24 luglio. Quindi c'è uno sbalzo poi di una settimana. Probabilmente potrebbero essere inserite in quel lasso di tempo degli stili per le skin che ancora noi non sappiamo. Ma la cosa particolare è che il 24 luglio ragazzi è il compleanno di Fortnite. Per chi come me c'era l'anno scorso al compleanno. Vi ricordate erano uscite le sfide del compleanno di Fortnite. Quelle tre sfide che ci davano l'adesivo con il numero 1, il backpack con la torta e lo spray con il numero 1 sulla cupcake. Mica ma ne sono ricordate adesso i pezzi di torta a Alex Acrianarchici. Però vabbè. Quindi ragazzi quello che ci chiediamo è in quella settimana in cui non ci sarà nulla faranno delle modifiche. Si stanno preparando alcuni dicono cambiamenti pesanti sulla mappa. Beh sicuramente c'è da dire che la season 10 non può assolutamente deludere le nostre aspettative se vuole continuare a mantenere Fortnite alla vetta dei giochi survival. E chiudiamo ragazzi con un altro argomento interessantissimo. Ecco qua ciò di cui vi parlavo. L'immagine dietro di me ci fa vedere benissimo la differenza tra la risoluzione nativa e la risoluzione strecciata. Come si chiama in gergo. Insomma personalizzata. Come notate perché i pro player hanno utilizzato fino alla patch 7. qualcosa. Quando insomma hanno tolto la strecciata perché come notate la parte di corpo del giocatore è nettamente più larga. E quindi è molto più facile con il mouse andare a dittare un giocatore perché il puntatore del mouse rimane uguale. Ma la risoluzione si allarga e quindi lo spazio dove si può dittare è nettamente più grande. La curiosità arriva proprio ragazzi da questa mail dove c'è un dipendente di Epic Games che dice grazie Samuel che è uno dei leakers per avermi fatto questa domanda ti chiediamo di avere pazienza perché nei prossimi update sarà nuovamente disponibile la risoluzione personalizzata per chi gioca da PC. Quindi ragazzi questo è un preambolo speriamo di capirci qualcosa di più ma sembra davvero che la strecciata stia per tornare. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 e live. Ciao!